Sto un po' più secca. Guarda, guarda. Sto un po' di sciacca. Mi ha fatto una narco. C'è una parte. Che c'hai? Una parte è la pazza. Tu metti se è bello? Pensi che questa cacca è diventa bello? Guarda che tagli deve fare sull'altra. Lì può capo, o lì che deve tirare. Mi ha detto che è corta. Che dice che è corta? E' lunga. Per star grande. O no va? Mi sa che si. Ogni cosa che dice lui è... E poi che ce le fai con questa giacca? Si indossa. Ah tu indossi? Ma c'è un cazzo. Se vieni in ufficio, stai a lei, stai a lei che fa. Cioè che te non ti ha fatto con le giacca a questo punto. Sì, ma io sto seduto in stanza. Anche io sto a lavorare. Se mi dovessi alzare, vado a dire per la giacca. 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 Insomma, non ti pensi negativi. Troppo è passabile. Vado a dire per la giacca. Lascia avrete il muro. Vado a dire per la giacca. Vado a dire per la giacca. Ma chi è la giacca? Beh, quando fai la ricerfoglina... Il mostro che stai a scena a spizermo. Quando vai al bagno ti usci sui pantaloni. Scusi, avrò la giacca per fuori. Avrò la giacca. Vado a dire, dov'è la giacca qui? Vado a dire... Ci facci vedere l'interno, aspetti. Apri la giacca. Apri la giacca. Aprisca la giacca. Aprisca. Dove va? Coccia. Dove va? Coccia. 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 Si andrea. Si andrea. Si andrea. Giri. Si andrea. Giri. Si andrea. Giri. Si andrea. Giri. Poi queste maniche della camicia sempre ultralunghe. Scusi, la camicia non la prende a misura. Le tematiche perché della camicia te la arrivano fino a qua e su? Il polsino... Facci vedere le mani. Perché si chiama polsino? Perché deve fasciare. Guarda sta camicia tutta arriva. È a bottonato. Guarda tutta arriva. La camicia deve essere fasciata sul polsino. Coccia. Zero. Coccia. Ma cercatevi. Cioè, l'alentità della giacca che non è il bottone. Che dice che è negativo tutto. No. È il più prestato che è buono. Solo il tessuto. La lavorazione è antica. Però non è un difetto. Solo il... Ma come allora uno che gira con l'olio gli dica è antico. Perché l'olio non va più. Così è antico. Non parlare dell'artista. Perché sempre a parlare dell'artista? Sempre a nominare l'artista. Rifacci la facci. Rifacci la faccia di prima? Oddio quanto è brutto. Ma... La guerra da ancora è pronta. Scoccia. Tre. Coccia. Coccia se ne vati. Coccia. Coccia. Coccia se ne vati. Coccia se ne vati. Coccia se ne vati. Coccia va via. Coccia. È stato immortalato a vita. Adesso viene qua e li vede... La giacca della namorzacina. Ma che figlia dai basta. Ci vuole tutto il lavoro. Non c'è nulla. No, è un nuovo... Ma che figlia via...